allora io mi chiamo carmela ho 38 anni e vivo in un paese provincia di mantova e di base sei già estetista unico tecnica si sono un estetista ormai da dieci anni che lavoro e ho fatto la scuola di estetica a 14 anni come superiore per quanto riguarda i corsi che hai fatto in precedenza insomma come ti sei trovata rispetto a questo corso che stai affrontando adesso ok affrontato adesso allora io anche se ho lavorato non ho mai fatto corsi anche perché tu dici estranei in un centro estetico una persona estetista dovrebbe essere sempre aggiornata dato che la titolare perché anche un interesse della titolare non gli è mai interessato questo non tanto questo settore si qua anche se io facevo lo stesso il gel la manicure e semi permanente però io sono dell'opinione che bisogna sempre sempre aggiornarsi e perché io già dal manicure master io lì ho conosciuto delle cose ho scoperto delle cose che io non immaginavo esatto io la scuola l'ho fatto che avevo 14 anni quindi non c'era nel gel nel semi permanente era soltanto la manicure semplice con un semplice smalto capito quindi allora mi è servito tanto perché comunque c'erano tante incertezze tante lacune ma tantissime perché comunque non allora ti ripeto che ero un po scettica ti ho seguito moltissimo è prima di iniziare il percorso con te e oltre al manicure master che io sono stata soddisfatta e a dir poco perché comunque sono talmente contenta perché quando puoi vai avanti con gli altri corsi avanti avanti tu hai una buona base c'è una buona base infatti io consiglio sempre di prima un corso base riguardando la manicure e poi dopo il gel l'agri gel l'agrilico e tutto quello che viene dopo ecco e quindi io e io già dal manicure master e poi tu spieghi benissimo e mi sono trovata bene che poi ho partecipato anche la maratone della limatura è perfetta quindi ho voluto anche approfondire quell'argomento lì anche se nel manicure master comunque c'era sì e poi ho seguito con gel master e comunque si impara un sacco di cose come costruire l'unghia con le fibre di vetro sì è comodissima anche quando devi riparare un'unghietta se non vuoi usare l'agri gel usi infatti io ho portato negli ultimi tempi le fibre di vetro perché sono comodissime velocissime da applicare e l'unghia poi la sentono anche abbastanza dura perché sai cioè andiamo a riparare comunque una crepa una rottura e sì anche lì ho imparato tante cose e sono soddisfatta contentissima te lo ripeto non lo dico perché stiamo in questo momento e io dico consiglio a tutte tanto poi ci ascoltano consiglio a tutte di acquistare i tuoi corsi perché sei bravissima a spiegare poi numero due di iniziare dal manicure master perché lì ci sono le basi più importanti e poi dopo proseguire con il gel tanto c'è anche un accenno di agrigel e vari tipi di ricostruzione quindi poi dopo si va sempre avanti quindi io consiglio a tutte le ragazze che vogliono intraprendere questo percorso questo lavoro o chi già lavora consiglio queste tre cose ecco una cosa che ti volevo chiedere che forse non ti avevo chiesto l'altra volta come ti sei trovata con l'assistenza con la correzione dei compiti in privato sia poi anche nel gruppo ti sei trovata bene o cambieresti qualcosa? allora non cambierai niente anzi la persona la Valeria che mi ha seguita è gentilissima pazientosa perché comunque io sono a volte sono un po' pesante sai finché che io non mi tranquillizzo ma non in senso diciamo che c'è qualcosa che non fa no però no lei è stata sempre gentilissima mi ha sempre spiegato tutto avevo avuto un piccolo problemino il fatto del pagamento e me l'hanno risolto subito e non ho avuto problemi con il pagamento quindi io guarda sono una che ho paura a investire online perché io mi piace più una cosa di contatto però mi sono sentita dal primo momento tranquilla e fiduciosa mi sono subito fidata con la persona e perché mi ha dato anche modo di di fidarmi ecco sì sì no mi sono ho trovata sempre bene con la Valeria che con l'assistenza e ho sempre risolto vabbè sempre quei due problemi che ho avuto sì sì ma erano punti di domanda però ma subito eh non è che ho aspettato no 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 subito abbiamo risolto queste cose poi la correzione dei compiti i consigli sempre perché le critiche sono costruttive i consigli su questo lavoro qualsiasi consiglio e critica serve tantissimo perché ci sono delle persone che magari gli dà fastidio un giudizio anche negativo sì e invece no anzi ti apre gli occhi ti apre il modo di vedere le cose il modo magari il suo modo è meglio del modo che io magari uso e mi trovo anche io bene sì infatti io sono contentissima Angelica davvero sono contentissima sì i tuoi corsi sono due quindi veramente anche io sono davvero contentissima il fatto che tu abbia fatto sia un corso poi abbia deciso di fare l'altro veramente vuol dire che è servito davvero tanto infatti anche le mie amiche che gli faccio le unghie così ha detto guarda Carmela ho notato proprio la differenza perché poi io racconto quello che sto facendo quello che vorrei fare e sai la soddisfazione pure devo avere infatti mi hanno fatto notare che le cose sono più precise e più definite perché quando ho fatto il corso di manicure master che io non ho mai messo il colore sotto cuticola capito allora anche la ricrescita anche se vengono dopo quattro settimane dicono sì sono lunghe però non si vede tanto che è cresciuta l'unghia allora anche quello sai ci sono molte persone che eh sì 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 e sono contenta davvero contenta e lo consiglio tantissimo i tuoi corsi ripeto consiglio prima di fare manicure master che lì davvero la base è ben strutturata e poi dopo il gel e tutto quanto segue quindi sì consiglio consiglio bene sono veramente felicissima di questa cosa anzi ti ringrazio tantissimo sia per tutte e due le recensioni e ovviamente poi quando verrà caricata in qualche modo verrai a saperlo oppure lo cercherai su youtube sì sì ok e niente insomma noi comunque ci sentiamo in chat con mesina insomma ci risentiremo sì sì perché se ci sono delle cose che io mi tengo le chat se con le altre colleghe che con la Valeria che se io voglio chiedere ho un pensiero almeno così mi sento anche io tranquilla che è una persona che è una persona che è una persona che ne sa comunque che ne sa più di me e farmi consigliare bene bene ti ringrazio tantissimo veramente sono veramente felicissima di tutta questa recensione e niente noi ci sentiamo in chat io ti auguro buona giornata ti meriti tutti i complimenti e tutte le recensioni positive perché te lo meriti sei proprio brava grazie 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 davvero grazie mille ok ti mando un bacione ciao 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 ciao